Il formato di firma ASIC Simple è un contenitore di dati che raggruppa un file e le relative firme digitali distaccate o marche temporali associate utilizzando il formato ZIP. Questo formato di firma è applicabile solo in caso di caricamento su ArubaSign di un singolo file. Per iniziare, avvia il software ArubaSign. Carica il documento da firmare cliccando su Seleziona documenti oppure trascinalo all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare è visibile il documento caricato. Sotto colonna Documenti firmati è possibile rinominare il file. Dal menu a tendina indicato, seleziona la voce ASIC Simple. Se sei in possesso di marche temporali, oltre alla firma, puoi apporre ai file una marcatura temporale. Ti basta abilitare il checkbox in corrispondenza della voce e marca temporale e selezionare il formato che desideri dall'apposito menu a tendina. Abilita il checkbox indicato per salvare il file nella cartella di origine, oppure clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Clicca Prosegui e firma. Al punto 1, clicca sulla freccia e seleziona Firma remota. Al punto 2, inserisci il nome utente e la password della firma remota. Clicca Prosegui. Nella schermata successiva, inserisci il codice OTP generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo, in base al generatore di OTP che hai acquistato. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzare il codice in chiaro. Clicca Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato, oppure clicca su Chiudi.